Buongiorno a tutti e ben ritrovati. Oggi andiamo a parlare di carico trifase squilibrato collegato a Stella. Mi è stato chiesto appunto di trattare anche i carichi squilibrati, lo farò brevemente in modo abbastanza semplice. Allora, quando è che un carico trifase è squilibrato? Quando almeno una delle tre impedenze è diversa dalle altre, quindi possono essere tutte e tre diverse o uguali 2 è diversa a una terza, insomma basta solo che una sia diversa. Ma da sé che la mia corrente di linea col collegamento a Stella è sempre uguale alla corrente di fase e il loro valore è dato da E1 fratto Z1, E2 fratto Z2 e E3 fratto Z3, dove i valori di E sono la 230. Abbiamo che il centro stella dell'alimentazione corrisponde al centro stella del carico, però quello che non è più valido è il fatto della terna equilibrata. Abbiamo che i 1, i 2 e 3 non sono più una terna equilibrata e la loro somma quindi vettoriale è diversa da zero e quindi abbiamo una corrente sul neutro. Bene, vediamo tra un attimo un esempio numerico per rendere più chiare le cose e anche poi il diagramma vettoriale. Bene, supponiamo di avere le tre impedenze, tutte e tre diverse, pari a questi valori qua, quindi due omicoinduttive e una puramente omica. Andiamo a trasformarle in forma polare, quindi andremo a trovare il modulo e la fase, quindi di Z1 andremo a fare la radice quadrata di 10 al quadrato più 20 al quadrato, e mi viene 22,4, approssimato un pochino, e poi andiamo a fare tangente alla meno 1 della parte immaginaria che è 20, quindi tangente alla meno 1 di 20 fratto 10 che viene 63 gradi, quindi 63 gradi. poi facciamo Z2, avremo, beh il modulo qua, anche se questa è la parte cambierà la fase, ma il modulo sarà sempre lo stesso perché i due valori sono uguali a prima, però qua invece avremo tangente alla meno 1 di 10 fratto 20, quindi di un mezzo, e quindi avremo circa 26 gradi, 26 e mezzo, facciamo 27 gradi, 27, no, non l'ho scritto, qua, 27 gradi. Poi Z3 ovviamente avrà per modulo 20 e per fase 0, visto che è puramente reale. Ovviamente poi questi avranno tutti il segno da vettori. Ok, a questo punto andiamo a calcolare la nostra I1, I2 e I3, quindi andiamo a calcolare la I1, sapendo che, allora, la prima E1 sarà 230 angolo 0 e Z1 quella calcolata prima che è 22,4 angolo 63, quindi la nostra I1 sarà 230 diviso 22,4 come modulo che fa 10,3, facciamo un'approssimazione e poi come fase 0, meno 63, meno 63 gradi. poi ovviamente questa sarà in ampere, e anche qua in realtà era tutto HOM, 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 le unità di misura quindi poi se volete aggiungerle tra parentesi e quadri. poi invece abbiamo la I2 allora andremo a fare al numeratore al numeratore sarà 230 angolo 100, allora I1, 0, I2, 120 allora 230 angolo, meno 120 e la Z2, 22,4 angolo 27, quindi la Z2 è 22,4 angolo 27, quindi la Z2 è 22,4 angolo 27, quindi la Z2 è 22,4 angolo 27. quindi avremo modulo uguale, quindi 10,3 angolo meno 120, meno 127, meno 147 gradi poi la I3 allora sarà in questo caso la fase della I3 più 120, quindi sarà 230 angolo 120 e il modulo del valore di Z3, perché ho preso anche questo 20, angolo 0 quindi andremo a fare 230 diviso 20 11,5 angolo 120 ok ora dobbiamo andare per poter fare la somma di I1, I2, I3 e vedere quanto vale la corrente di neutro, dobbiamo andarla a trasformare in forma complessa, quindi avremo I1 sarà il modulo, quindi 10,3 coseno di meno 63 meno 63 più J più J seno di ma oppure potrei metterlo tra parentesi aspettate, magari facciamo così mettiamo la parentesi quadra allora 10,3 per cos di meno 63 fa 4,7 4,7 4,7 e poi l'altro sarà sicuramente meno J allora 10,3 per seno di meno 63 viene meno 9,2 quindi meno J 9,2 e questo sempre l'unità di misura poi P2 stessa cosa sarà 10,3 aperta quadra cos di meno 147 più J seno di meno 147 chiude chiusa allora diventa 10,3 per cos di meno 147 fa meno 8,6 quindi meno 8,6 poi 10,3 per seno di meno 147 fa meno 5,6 meno 3 5,6 anche qua ampere e per ultimo i 3 11,5 cos di 120 più gel seno di 120 allora 11,5 per cos 120 fa meno 5,75 quindi meno 5,8 meno 5,8 e poi invece 11,5 per seno di 120 fa circa 10 quindi metterai più già i 10 anche qua ampere da queste andiamo a ricavare la n quindi farò n uguale tutte le parti reali quindi 4,7 meno 8,6 meno 5,8 e poi le parti immaginarie meno j 9,2 meno j 5,6 e più j 10 quindi allora 4,7 meno 8,6 meno 5,8 fa meno 9,7 e poi qua abbiamo 10 meno 9,2 meno 5,6 che fa meno 4 quindi meno j 4,8 ampere quindi questo è la in se vogliamo farla poi in forma polare anche questa avremo radice quadrata di 9,7 al quadrato più 4,8 al quadrato chiusa uguale quindi 10,82 angolo allora tangente alla meno 1 di 4,8 diviso 9,7 e sono 26 26 però sono 1,2,3 terzo quadrante quindi devo fare 180 più 26 e quindi sono 206 ecco qua quindi questa è la nostra corrente di neutro che ovviamente è data sempre dalla somma delle altre correnti quindi è la corrente di ritorno vantaggi allora uno pensa al perché conviene fare una trifase di questo tipo anche se squilibrata rispetto invece a tre linee monofase separate è che comunque la corrente di neutro risulta sempre minore della somma dei moduli delle tre correnti di fase e quindi comunque ho una convenienza se risultando minore mi conviene sempre sapete che comunque la corrente minore implica anche un dimensionamento dei cavi della sezione dei cavi minore quindi comunque conviene rispetto alle tre monofasi separate bene spero che tutto questo vi possa essere d'aiuto di essere stata chiara fatemelo sapere nei commenti e ci vediamo al prossimo video ecco un piccolo riepilogo almeno si vede bene completamente dall'inizio alla fine dimenticavo il diagramma vettoriale che vedete qua che ho aggiunto quindi i1 i2 i3 e la in bene ora ho concluso effettivamente dimenticavo